Luminari accese meno ore in alcuni casi addirittura eliminate, videomapping centellinato, così anche ad Arezzo sarà un Natale a risparmio energetico, una scelta forzata dovuta alla caro energia in vista dell'accensione della città del Natale in programma il prossimo 19 novembre. Metteremo mano a quelle che sono le solite attività tenendo conto che abbiamo due esigenze, una di ordine etico e una di carattere economico, non ci pare il momento di sprecare energia e anche detto banalmente l'energia costa quindi dovremo fare economia su quelli che sono i consumi, quindi metteremo mano a quelle che sono le nostre consuete proiezioni limitandone l'orario di accensione, posticipando l'orario di accensione e anticipando lo spengimento, limitandole magari ai giorni in cui la città del Natale è effettivamente aperta, quindi dal venerdì al sabato a novembre, dal giovedì alla domenica a dicembre e ipotizzando, anzi senza ipotizzando oramai la cosa decisa, di eliminare alcune proiezioni, sostanzialmente una che era particolarmente energivora sostituendola con molto più economici LED e mi riferisco in particolare a quella su Palazzo Comunale che era veramente molto bella, molto bella però da sola consumava quanto tutti gli altri messe insieme. Ma già del Natale zero spreco riusciranno a coniugarsi questo Natale? Ce la dobbiamo fare perché noi abbiamo, ripeto sempre questo concetto, noi abbiamo un prodotto, un prodotto che nel tempo si è venduto molto bene e che vogliamo continuare a vendere anche quest'anno e nei anni prossimi, è chiaro che questo è un prodotto che genera un PIL in città, a fronte di ogni euro investito ce ne sono 20 barra 22 che muove nella città la città del Natale, quindi noi non ci possiamo neanche permettere il rischio di depauperare troppo questo prodotto perché diventerebbe ovviamente invendibile, quindi staremo molto attenti a confezionare un prodotto che comunque abbia PIL ma che non sia spoglio e soprattutto che non sia eccessivamente costoso.